Giurisprudenza? E poi cosa vuoi fare? L'avvocato? Ma lo sai che è banalissimo, ce ne sono troppi, finirai a lavorare a McDonald's Sai cosa? Che probabilmente hai ragione, è per questo che ti sputerò con tutta la forza con il golo, lei me ha nangret L'accademia delle belle arti, vabbè ma non è proprio l'università, cioè in realtà non ti laurei, non stai facendo niente No ma è vero, è vero, d'altronde anche tua sorella non è che sia proprio proprio una sorella, è una grandissima putt Architettura? Vabbè ma tipo le case le fanno gli ingegneri, cioè in voi alla fine cosa fate? Niente No è vero, è vero, d'altronde tu non hai mai consegnato un progetto dopo che l'hai fatto di giorno e di notte perché non hai neanche il tempo di respirare, vero? L'unica cosa che hai consegnato sono le analisi del sangue ai tuoi, dove hai trovato un nuovo valore, sai come si chiama? Sei uno str... Abba tu non è cattolica? Vabbè la classica dove tutti pagano, entrano e passano, cioè quelle robe dei cattolici, di Dio Io non ce l'avevo mai pensato, così cosa adesso faccio fare tutti gli esami direttamente a Dio e io qui studiavo giorno e notte per passare tutto, pensa un po' che scemo che sono Scienze motorie, vabbè ma non è l'università, cosa fate? Ginnastica, salto in alto, non è l'università, salto in alto Oh ma sai che ci pensavo l'altro giorno mentre studiavo anatomia? Te lo giuro, ho detto ma vuoi vedere che qua sono il più scemo Poi ho conosciuto te e ho scoperto, no sei tu il più scemo, merda Vericulturali, ma che università è? Ma sei serio? Oh raga è vero, è la mia, è la mia, che cosa devo fare? È vero, ve lo giuro, la sua università è vericulturale Scienze della comunicazione, quella dei video di Filippo Caccamo dove lo fate diete? Filippo Caccamo del cazzo, io ti odio Ma non ora, ma non ora, ma non ora Ma sono culo Medicina, Dio mio, io sono contro i vaccini, contro tutte queste cose, le case farmaceutiche, vi giuro, vi odio No ma sai che hai ragione, infatti guarda sto cambiando alcuni corsi, ho deciso di sempre ad esempio un corso della Fata Morgana Con cui troviamo dei metodi alternativi ad esempio per salvare le persone, delle bacche, degli incantesimi, tutte queste cose che piacciono a voi No ma non ciò che farò, abbiamo ancora una volta, è vero, 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 è vero Grazie.